Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, ospite a Botta e Risposta, ha rassicurato sul futuro di SEA e del servizio di raccolta dei rifiuti a Viereggio, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che entro alcune settimane dovrà stabilire se sia legittimo o meno l'addio del comune di Camaiore, passato da SEA a Ersu lo scorso settembre. No, no, allora non ci sono rischi ovviamente per Viereggio, così come non ci sono rischi per i posti di lavoro, ci mancherebbe altro. Ersu, se il Consiglio di Stato darà ragione a loro, non farà altro che acquisire un ramo d'azienda di SEA ambiente e conseguentemente con il ramo d'azienda acquisirà anche parte dei dipendenti, parte delle strutture, parte delle infrastrutture, qualora il Consiglio di Stato desse ragione a chi ha messo in campo tutta questa operazione, che, ripeto, per me è assolutamente legittima, ma dal punto di vista politico. Sollecitato da casa sul futuro dell'impianto di compostaggio del verde della Morina, ritenuto dai residenti e indiziato da Arpatto come una possibile fonte dei cattivi odori che si respirano a Viereggio, il Sindaco ha aperto per la prima volta ad una delocalizzazione della struttura che oggi sorge al Varignano. La Morina ha una concessione che scade. Sulla Morina sono stati fatti dei grossi lavori di messa in sicurezza, di miglioramento che hanno portato fortunatamente a non avere quegli odori che potevano essere fuoriusciti da lì. Assieme a SEA noi stiamo naturalmente valutando la possibilità di avere un altro luogo dove fare l'impianto, se troveremo un altro luogo adatto, naturalmente che abbia tutte le caratteristiche, sposteremo la Morina e in ogni caso ora chiederemo se è possibile una proroga per trovare le soluzioni confacenti. E' chiaro che un impianto è indispensabile perché altrimenti dove portiamo il materiale. Infine la cultura, la nuova istituzione che raggrupperà Carnevale, Puciniano, Ville e Musei si chiamerà Rosetta, in omaggio alla celebre stele che fu chiave di lettura decisiva dei geroglifici e porta di accesso al sapere antico. Lo porteremo al prossimo consiglio, quindi la costituzione dell'istituzione, la costituzione inevitabile, la formazione del consiglio di amministrazione che sarà formato dal sindaco e dalle due in questo caso, dai due presidenti delle due fondazioni e inizierà l'attività con l'anno 2020.